Abbiamo avuto questa bella opportunità di conoscere l'avvocato Marazzita il quale è stato molto felice di venire a trovarci e quindi martedì 28 una serata di carnevale ma quindi ha rinunciato ad altro per stare con noi contiamo che sarà una bella serata perché è un molto noto della tv, molto amato del signore e poi è una persona che accultura le persone perché noi seguiamo il forum, io stesso seguo il forum con curiosità perché è l'opportunità di conoscere come si interpreta una sentenza, come si interpretano le leggi quindi è una trasmissione che fa cultura ma veramente fa cultura perché normalmente i tribunali sono visti dalle persone qualcosa di lontano invece lì è l'opportunità di capire come le sentenze vengono articolate poi lui è molto preciso come avete notato e quindi è analitico quindi penso che sarà una serata piacevole, invito tutti a partecipare. Ci sarà anche una raccolta di fondi? Sì assolutamente, noi come Rotary colliamo sempre l'opportunità per avere dei fondi e in questo caso ricorre in febbraio il centenario della fondazione del Rotary e del Rotary Founday, cioè la fondazione del Rotary, noi come siamo conosciuti per la famosa eradicazione della poliomelite, una battaglia di civiltà che noi facciamo da anni perché ogni piccola goccia cerchiamo di portarlo in quel mare per il prossimo.